Presidente Sebastiani, io partirei dall'arbitraggio di questa partita senza nulla a togliere alla Reggiana. Ancora una volta c'è stata una direzione arbitrale che ha lasciato grandi perplessità, non è la prima volta. Io non mi ricordo il nome dell'arbitro, però credo che... Maranesi di Ciampino. Ecco, credo che oggi Maranesi-Pescara 3-2. Come ci può essere una spiegazione, Presidente, per l'ennesimo arbitraggio che lascia destra delle perplessità? Pescara dà fastidio in Serie C, qualcuno potrebbe pensare questo? No, non credo che sia questo il problema. Il problema è che purtroppo ci sono degli errori evidenti. Io non voglio dare colpe a nessuno, però credo che l'arbitraggio di oggi sia veramente vergognoso. Soprattutto nell'ultima cosa che ha fatto, che è una cosa che non sta né in giro né in terra. Il cartellino rosso sul portiere che esce e che fa rigore non si dà più, è una regola, non è che lo dice Sebastiani. Se uno non la conosce faccio fatica a pensare che uno possa arbitrare. Avete chiesto spiegazioni alla fine al direttore di campo? Sì, però ho detto che non adesso, ce la darà la prossima volta, forse, fra 5-6 mesi. Presidente, allora parliamo di questa partita. Insomma, Pescara che era andato sotto aveva avuto la forza di reagire, di portarsi in vantaggio. Poi c'è stato questo pareggio e poi tutto quello che è successo nel finale, le due espulsioni. Insomma, c'è amarezza. Mettiamo le cose a posto, perché Pescara è andato sotto su un gol in fuorigioco. Noi lo abbiamo detto subito in diretto. Il gol era in fuorigioco e si vede tranquillamente. Solo la terna arbitraria non l'ha visto. E credo che, insomma, in una situazione anche di minimo dubbio, credo che l'arbitro debba alzare, debba fischiare. Comunque, a prescindere da quello. Il primo gol era in fuorigioco. Il Pescara ha fatto la partita per 70 minuti alla grandissima oggi, perché ha fatto una partita veramente bella, da tutti i punti di vista. Abbiamo peccato di ingenuità nel secondo gol loro, perché ci siamo un pochettino distratti su quel calcio d'angolo. E dopodiché, il terzo gol, se ve lo rivedete, anche quello in evidente fuorigioco. Poi finisci con l'espulsione del portiere. Io l'unica cosa che mi auguro è che, siccome c'è sempre la buona fede, io penso sempre alla buona fede, adesso nella buona fede non ci sia anche la beffa con la squalifica del portiere. A proposito di squalifiche, c'è il rischio lunedì prossimo a Chiaveri con la Virtus Centella di presentarsi in Emilia con diverse defezioni? Diverse defezioni. Noi abbiamo fuori quelle che c'erano oggi. C'è Giambò squalificato, ma dovrebbe rientrare Pompetti, che sta bene. Frascatore oggi non era nella lista? Frascatore aveva un piccolo problema, quindi credo che sia recuperabile. Non so se lo sarà Drudi, ma per il resto siamo quelli di oggi. Anzi, forse qualcun altro lo recuperiamo, per cui non è questo il problema. Presidente, è un momento un po' particolare. Siamo alla settima giornata, però è un momento di difficoltà a livello di risultati, soprattutto in quattro gare casalinghe il Pescara ha vinto una sola volta. Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Le altre hanno vinto gli arbitri, sempre. Di che dobbiamo parlare? Io non voglio dare alibi ai miei giocatori, all'allenatore, a nessuno. Però noi potevamo tranquillamente avere 4-5 punti in più e stavamo parlando comunque di altro, di una classifica diversa, anche se siamo, come dicevi prima, alla settima partita e quindi tutto quello che stiamo dicendo fa poco testo. Però non si può continuare a subire torti di questo tipo, soprattutto quando giochi in casa, perché ribadisco, noi non siamo l'ultima ruota del carro, vogliamo gli stessi trattamenti di tutte le altre. A tal proposito, le chiedo, si farà sentire con chi... Ho parlato con Rodomonti, che era qui a vedere la partita, anche lui, a parte il confermarmi l'errore tecnico che ha fatto l'arbitro nell'espulsione di Di Gennaro. Non aveva ben visto i fuorigioco, ma c'è poco da vedere. Nel momento in cui ti vedi le immagini, sono almeno due dei tre gol in fuorigioco. Ma se uno guarda bene anche il secondo gol, probabilmente trova anche lì il fuorigioco. Presidente, per chiudere, allora parliamo di questa gara di lunedì a Chiavari, un'altra partita sulla carta difficile, ammesso che ci siano gare semplici in questo campionato. Insomma, bisogna reagire, bisogna ripartire, anche per dimostrare che questo è stato un incidente di percorso. Sì, sì, ma io credo che oggi era una partita difficile, come l'avevamo presentata tutti. Il Pescara ha dimostrato che se la può giocare con tutti, alla pari, ma credo che per 70 minuti, se c'è stata una squadra che ha giocato a calcio, quello era il Pescara.